Segui un segno Ma no mi sa... Ma tu c'hai le dita così Ma tu sei lo sport Non riesco a stare Non riesco a stare No ma tranquilla Debra che entro domani ce la facciamo Aspetta che magari se la faccio un po' così Io aspetta quella foto Ti spingi un po' di più perchè così Se fai un angolo di 45 gradi ti torna il 90 Oh no No sei stoltato Bisogna ripar da capo Tieni l'intenzione Non è proprio così il dito Più semplice Quanto è sexy sta ragazza Mica con quel dito lei proprio Poi è dolcissima e romantica Io voglio vedere la sala Sì no ma tranquilla Non prendermi la cosa Mica ha sempre questo dito Eh no infatti sì È proprio il tuo obbligo Il tuo mare Ma lo trovavo Oh ma nella coca del McDonald Ma proprio scende malata Aspetta proviamo No ti prego in seguita No ma tu non ho ancora capito il caso No 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 ma hai tranquillito No no ma hai fatti Io vorrei capire guarda che capisci No 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 cosa devo fare Sì sì Devi ammazzare No un altro segno Fai un altro segno quello dì Non lo so fare Non lo so fare Un altro No questo voglio Stai incazzata Scusami Dai Ma non ho ancora capito No secondo me no Stai facendo un video? C'è arrivato C'è arrivato C'è arrivato 2 minuti e 35 Scusami Scusami Ma voglio sputtanarla Vai vai di qualcosa No ma voglio sputtanarla No no non lo mandare su youtube Per piacere Cos'è? Non ho capito Non lo mandare su youtube Pettana cazzosa Sì ma ragazzi Manca il regista No 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 Ma passo passo Se mi vedete su youtube Non sono realmente così stupida No di più Io sono una ragazza molto intelligente Ho già tagliato Sono una ragazza molto intelligente Solo che loro mi fanno sempre stupida Noi abbiamo fatto niente Non mettiamo gli occhiali Eh vai vai Mettite gli occhiali Vai 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 E lei che fa le domande Le hai fatto tutto? C'è più roba da fare Deborah non è uno specchio quello Ti sta riprendendo Non so Ah ok Lo mettiamo su youtube C'è io perdone se è stata così prima Sparati Uffa Ma ma tranquilla Hanno già pulito Oh però guardate che belle le rose di white Ok Deborah te l'hanno vista in mano 25 minuti Io lo so Tu puoi fare E lo viste già sanno come si fanno Addirittura Sempre questo dito Guardate Oddio è bisantissima Certo Certo Tu ti rendi conto che la protagonista di questo video sarà questa cosa qua? Purtroppo non c'è altro Certo Che cazzia che siete No ma tranquilla Non c'è affinato 41 È sempre questo dito Ho fatto così Ho salutato No io Non hai capito Si ma il protagonista No no si la tagliamo Da salutate Che taglio No aspetta Lei fai la foto per salutarla scusa Ma c'è una tutta A tutti A tutti